Abbiamo con noi la dottoressa Tosca Lynch, che è membro della Royal Society of Arts ed è associato di ricerca alla facoltà di lettere classiche dell'Università di Oxford. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Senta, lei è una delle più accreditate studiose ricercatrici della muschia greca e romana. Ma ci vuol parlare, per cortesia, quali sono gli ambiti della sua ricerca? Tutto è cominciato ormai parecchi anni fa, quando ho incontrato Platone all'università. All'epoca stavo finendo il conservatorio e ho iniziato l'università di filosofia e una delle primissime lezioni che ho fatto è stata un corso su Platone e mi sono innamorata. e da lì è cominciato un lungo, lungo percorso, per cui prima ho incontrato il Terzo Libro della Repubblica e Platone parla molto in dettaglio dell'effetto, diciamo, di diverse scale, diversi ritmi, diversi strumenti. E allora ho cominciato a pensare di cercare di dare delle ricostruzioni sulla base di quello che possiamo sapere effettivamente, di come funzionassero questi strumenti e vedere se questo ci aiuta a capire meglio il discorso che fa Platone a livello etico, educativo, estetico. La buona notizia è che è vero, che aiuta a sapere come funziona la parte tecnica. Quella meno attesa forse era che ci ha voluto un lungo tempo e vari approfondimenti di diversi ambiti per riuscire a avere questa risposta. Per cui prima mi sono occupata, diciamo, di ritmica in questi anni. Poi negli ultimi anni più di scienza armonica, ricostruendo come funzionavano le harmonie antiche e lo sviluppo poi del sistema armonico, la rivoluzione della nuova musica e più recentemente di strumenti, appunto, vedendo come tutti questi pezzi si tengono insieme. La grande sorpresa è stata riuscire a, effettivamente, a ricostruire come funzionasse il rapporto tra queste harmonie e poi lo sviluppo del sistema armonico da parte dei nuovi musici cosiddetti e ai quali Platone naturalmente ha avuto delle reazioni molto forti e nel 2018 ho pubblicato la prima versione di questo, la parte teorica, diciamo, di questa ricostruzione e posso anticipare che tra pochi mesi usciranno due grossi articoli che, diciamo, mostrano come i documenti musicali confermano in dettaglio questa ricostruzione. Bene. Senta, quale pensa che possano essere delle ricadute dei suoi studi in un territorio come quello pugliese impegnato sulla maglia Grecia? Beh, moltissime, penso. Prima di tutto, in un certo senso, la scienza armonica greca è nata a Taranto, per cui non è nata in Grecia. Tutti e due i più grandi esponenti, diciamo, cioè le grandi scuole di scienza armonica, quella pitagorica e quella aristosenica, i due personaggi più importanti, Archita da una parte, almeno per la parte classica, Archita e Aristosseno, sono tutti e due di Taranto. Per cui penso che sia sorprendente per molti pensare che è nato sostanzialmente nell'ambito della maglia Grecia e anche la parte pitagorica in generale, naturalmente. Per cui, diciamo, c'è questo elemento culturale e poi Platone è venuto a stare con Archita, pare, oltre ai suoi altri viaggi in maglia Grecia, per cui c'è un sostrato culturale molto forte di radice proprio. Però penso anche che questo tipo di radici nel passato possano diventare un elemento enorme di sviluppo potenziale per il futuro, non solo a livello di, come posso dire, politica educativa e culturale, ma anche a livello di politica economica e di sviluppo territoriale, perché io penso che potrebbe essere un elemento essenziale per lo sviluppo positivo di un territorio come il vostro, ma più in generale quello italiano, perché c'è un potenziale non esplorato e non valorizzato e che potrebbe avere delle ricadute in termini di creare dei posti di lavoro di qualità, che possa valorizzare il patrimonio culturale che abbiamo e possa non essere esportabile altrove, per esempio. E tutto questo, secondo me, darebbe, da un lato, un senso di orgoglio anche e di valorizzazione del patrimonio che esiste. Però, dall'altra parte, anche come di uno slancio in avanti nel capire come siamo in relazione con questo e attrarre altre persone che possano godere di tutta questa ricchezza culturale enorme. Però per fare questo c'è un passaggio cruciale che secondo me va, come dire, costruito, diciamo. Cioè il fatto di... Cioè, naturalmente bisogna basarsi su fonti e su ricerca rigorosa, però bisogna anche liberarsi dal preconcetto che fare cultura deve essere qualcosa di, come dire, un po' rigidino, tendenzialmente noioso e che faccia un po' paura. Cioè, diciamo, questa faccenda qui, purtroppo, è ancora parte di un certo tipo di modo di pensare la cultura. Che però, se c'è qualcosa di più antigreco di questo, è difficile trovarlo, perché, insomma, i greci avevano un'idea di cultura molto vivace e molto piena di vita, molto, molto vitale. Per cui l'idea di... Cioè, per riuscire a, come dire, utilizzare appieno questo patrimonio, sicuramente è necessario il fatto di lasciare andare queste idee che la fatica sia un prerequisito per cominciare a conoscere la cultura greca. Naturalmente, se uno vuole fare ricerca, sì, non è sempre una passeggiata, però si può dare il frutto di questa ricerca a un pubblico più ampio in una maniera che possa essere, come dire, godibile, piacevole e interessante senza dover pensare a, come dire, necessariamente la statua bianca in silenzio, ecco, che per carità è bellissima, però è solo un piccolo pezzo di quello che si può sapere sull'antichità. Quindi, una delle maniere per valorizzare questa cultura è quella di esporre sia i reperti archeologici, sia tutta la parte iconografica, ma anche la parte letteraria, i epigrati, eccetera, di tutto il materiale sonoro nei musei. Lei come immagina l'esposizione museale di questi oggetti? Sì, sono molto d'accordo e penso che il fatto che abbiamo separato, diciamo, il patrimonio culturale da il contesto vissuto in cui è nato, in cui era agiva, diciamo, nel mondo, è uno dei problemi che abbiamo, per cui cercare di rintegrarlo in qualche modo è essenziale. Naturalmente, ci sono, a seconda, nei vari contesti museali, varie possibilità e vari vincoli che siano finanziari, che siano di spazio oppure esterni tipo la pandemia, per cui, insomma, bisogna adesso essere abbastanza attenti a le modalità che si pensano di interazione naturalmente e poi di conservazione anche dei reperti. Per cui, quello che penso io è che ci possa essere un enorme spazio per l'interazione tra il modello fisico e dei modelli digitali, in modo tale che si possano, diciamo, trovare delle mediazioni tra questi problemi, queste limitazioni tra di loro e creare, diciamo, nuovi approcci che siano più comunicativi e più interattivi con quello che, con il patrimonio e con i reperti. Per esempio, se si integra la disposizione, l'esposizione di reperti con modelli a 3D ricostruiti che siano manipolabili dalle persone che vengono, possa essere, naturalmente, sia su schermi presenti nel museo, ma anche potenzialmente sui telefoni o sul tablet delle persone e o su una forma di guida virtuale disponibile sul sito del museo, per esempio, per cui allargandolo anche persone che magari per vari motivi non possono venire fisicamente al museo. Ecco, questo modo di interagire in maniera più diretta con il modello digitale non comporta, naturalmente, rischi di danneggiamento o problemi, insomma, al reperto, però rende possibile il fatto di capire meglio la funzionalità dello strumento in un modo più diretto, diciamo, interagendoci in qualche modo. Poi, in un momento, diciamo, più rilassato rispetto a quello attuale, si potrà anche fare, potrebbe fare, diciamo, delle copie stampate a basso costo 3D, per esempio, e per cui la manipolazione diventa anche più diretta. Però la parte digitale permette altre cose, tipo, aggiungere dei suoni campionati e per cui magari riuscire a sentire come potevano suonare questi strumenti anche senza avere la tecnica necessaria o la preparazione per farlo. Per cui ci sono vari, diciamo, secondo me, questo è l'elemento di, come dire, interazione possibile tra tutti questi vari livelli per renderli più comprensibili in un senso diretto, no? E poi, per esempio, il modello 3D può aiutare anche a capire, ho fatto recentemente un paper a Londra in cui ho fatto vedere come questa ricostruzione a 3D di un museo, di un Aulos che ho fatto del Louvre, aiuta a capire dei basi che ci sono nel British Museum rappresentazione di simposio perché è letteralmente, come naturalmente, è scalato lo strumento che ha in mano un'auletta in questa immagine. Per cui ci sono tante possibilità di, diciamo, interazione tra vari tipi di evidence. Certo, ma infatti uno dei limiti oggi dei musei è quello che la fase solo espositiva non basta più e forse non basta più nemmeno la fase comunicativa. Io ti comunico il mio museo, ma questo ci permetterà di raggiungere la fase divulgativa, cioè possiamo raggiungere il pubblico divulgando e queste metodiche secondo lei hanno la capacità di essere divulgative oltre che soltanto conoscitive dello strumento. Certamente. In un certo senso per raggiarmi a quest'ultima frase forse non è mai bastata però la parte espositiva nel senso forse ci stiamo rendendo conto noi che abbiamo creato un problema in età diciamo moderna contemporanea questa faccenda cioè di aver separato gli oggetti per fortuna per conservarli però allo stesso tempo e avere come dire delle collezioni organizzate ma allo stesso tempo però questo gesto li ha come dire separati dal loro contesto per cui stiamo in un certo senso risolvendo una parte di un problema che abbiamo creato noi insomma però a parte questo che però penso sia importante per renderci conto di come diversi forme di interazione culturale con il nostro patrimonio hanno potenzialità ma anche limiti però sì sulla parte di divulgazione è un po' quello che pensavo prima è possibile farla molto bene sulla base di informazioni naturalmente ricerca solida però appunto rendendolo rendendo questi contenuti accessibili a vari tipi di persone con diversi tagli a seconda del tipo di persone dei gruppi dei loro interessi eccetera per esempio naturalmente la cosa più semplice da cui si può partire sono concerti con ricostruzioni modelli ricostruiti in modo tale e piccole come dire lezioni concerti in modo tale da far sentire e spiegare i contesti in cui si potessero utilizzare questi strumenti eccetera ma allo stesso tempo si possono fare anche workshop interattivi per esempio ricostruendoli è possibile ricostruire questi strumenti almeno quelli più semplici in tempi relativamente brevi oppure workshops corali in modo tale da imparare e partecipare a un coro greco diciamo ricostruito e questi sono altri modi di far parte di quella cultura in maniera diciamo cercare di capirla un po' meglio da un punto di vista attivo poi per altri tipi di pubblico si può pensare a lezioni specifiche sulla parte teorica per esempio o su come si trascrive un pezzo musicale da un epigrafe o da un papiro qualsiasi cosa insomma e a un altro livello ancora che è interessante è stato un po' pericoloso secondo me negli anni ma non per questo non bisogna farlo come dire aprire delle collaborazioni con persone che sono interessate compositori a sperimentare con i modelli greci che siano strumenti che siano scale eccetera e provare a vedere come dire come poter utilizzare questi modelli in maniera creativa nuova naturalmente il problema lì è essere molto chiari rispetto a che cosa si sta facendo perché la ricostruzione è una cosa il fatto di pensare a come si possono usare come fonte di ispirazione per musica contemporanea è un'altra però una volta che è chiarita la distinzione metodologica secondo me è una cosa molto interessante vedere come dire come la fantasia dei compositori contemporanei può portare a scoprire anche a noi magari delle potenzialità nuove di quello che abbiamo sotto gli occhi per cui ci sono tante possibilità per renderlo vivo di portarlo nella vita nostra anche sì mi viene una domanda guardi oggi abbiamo possibilità tecniche per ricostruire in maniera molto fedele pensiamo alle scansioni laser per tutto quello che è la superficie tutta la diagnostica a raggi X con tac o altro per vedere le superfici interne quindi potremmo ricostruire in maniera molto fedele lo strumento specifico custodito in quel museo addirittura farne una coppia 3D e stampare ricostruendo anche le parti mancanti oppure possiamo costruire uno strumento totalmente nuovo e non necessariamente fedele allo strumento presente in quel museo per per scopi differenti ovviamente il secondo può essere usato tutti i giorni per ricostruire brani o crearne di nuovi il primo per essere identitario del del museo all'interno del quale è custodito quello strumento quale delle due tipologie di ricostruzione lei pensa sia più utile ma generalmente penso diciamo la ricostruzione di strumenti archeologici è più utile su vari livelli ma non escludere diciamo l'alternativa nel senso che l'usare queste tecniche che sono molto utili soprattutto in combinazione tra di loro è secondo me l'unica maniera seria per riuscire a ricostruire degli strumenti nel senso che è possibile farlo ma ci sono anche degli ostacoli metodologici non piccoli per esempio nel caso degli aulos sono spesso frammentari non sempre il caso del louvre è diciamo relativamente semplice perché è intero ma in altri casi bisogna invece avere delle fare delle valutazioni rispetto a quello che manca ma anche nel caso di quello del louvre manca una parte piuttosto fondamentale che lancia che come qualsiasi oboista può confermare è piuttosto vitale per decidere come effettivamente si comporta lo strumento però anche questa è possibile ricostruirla perché abbiamo per fortuna vari tipi di fonti che convergono per cui è questo il gioco trovare come le varie come dire i vari pezzi di informazione si tengono insieme e come si combinano in un in una immagine coerente poi in tutto questo c'è anche la possibilità di usare come ho fatto anche io recentemente creare dei modelli matematici che valutino il comportamento dello strumento con una particolare ancia o un'altra sempre con come dire cautela naturalmente per i motivi di sopra però tutti questi pezzi messi assieme permettono di dare una valutazione abbastanza diciamo precisa di quello che può fare quella scala di quello strumento a quel punto diventa una fonte di informazione cruciale per sapere per esempio in un certo contesto che tipo di musica si poteva fare e se questo coincide con quello che abbiamo nelle fonti letterarie iconografiche per esempio oppure ci dice molto sull'evoluzione storica delle possibilità di strumenti e questo va insieme all'evoluzione storica del sistema armonico per cui sono tanti livelli che si tengono insieme per questo motivo secondo me ricostruire gli strumenti diciamo che abbiamo originali nel modo più fedele possibile è essenziale poi naturalmente si possono fare delle repliche a 3D a costo molto accessibile in modo tale che possano essere usati in contesti come dire vari e questo è un'ottima idea secondo me nel caso delle lire è più complessa la questione a 3D meno paradossalmente quella di ricostruire le scale perché abbiamo delle testimonianze molto dirette a livello come dire nei trattati tecnici per cui quella è più semplice ecco per ricostruirla quindi per concludere vorrei chiedere una cosa ora abbiamo parlato degli strumenti ma sappiamo molto poco delle esecuzioni abbiamo però la quantità importante di fonti scritte di notazioni musicali come come possiamo sentire queste notazioni musicali è una buona domanda diciamo è un modo molto diverso in un certo senso del nostro di scriverla la musica l'effetto finale è meno straniante secondo me di quello che molti si attendono nel senso che la struttura è sostanzialmente diatonica della musica per cui non lontanissima dalla nostra ma ci sono delle possibilità di alternare la struttura diatonica a strutture diciamo con quarti di tono o cromatiche che introducono un elemento che noi generalmente percepiamo come più orientale diciamo o comunque diverso per cui c'è un'alternanza tra un modello che c'è familiare è qualcosa di più straniante rispetto a come sentirla la cosa più semplice è proprio partire dalle partiture e provare come dire a eseguirle o sentire delle registrazioni come abbiamo fatto anche abbastanza recentemente sapendo che sono dei punti di partenza perché c'è ancora molto da da approfondire su cui lavorare da un punto di vista esecutivo soprattutto alla luce di tutte le cose nuove che abbiamo messo a fuoco recentemente e poi anche proprio a livello tecnico c'è ancora bisogno di lavorare per riuscire a avere qualcosa di come dire naturale ecco però già ci sono dei buoni punti di partenza per avere come dire un primo assaggio di quello che potrebbe essere un soprattutto a livello diciamo di evoluzione da quello che abbiamo della parte diciamo classica ellenistica e quello che c'è sulla parte imperiale si sente un cambiamento molto netto di ambiente musicale per cui questo si può percepire benissimo ringraziamo la dottoressa Tosca e alla prossima puntata un abbraccio grazie mille buonasera